Conosci i benefici del retinolo puro contro i segni dell'età? È l'ingrediente di riferimento per i dermatologi. Nuova Neutrogena Retinol Boost La sua formula unica, con retinolo puro, estratto di mirto e acido ialuronico, combatte i molteplici segni dell'età. Dopo 8 settimane, meno 47% rughe, meno 45% pelle spenta, meno 48% macchie. Il tutto in una formula ben tollerata dalla pelle. È scientificamente provato. Nuova Neutrogena Retinol Boost. Aumenta la vitalità della tua pelle.